Il Centro per l'impiego di Albenga cerca un cuoco per hotel di Laigueglia, requisiti richiesti, esperienza richiesta più di 5 anni, età minima 35, massima 55 anni, contratto proposto, tempo determinato, full time. Il Centro per l'impiego di Carcare cerca un farmacista per parafarmacia di Cairo Montenotte, requisiti richiesti, titolo di studio, laurea in farmacia, più abilitazione alla professione, contratto proposto, tempo determinato, part time. Il Centro per l'impiego di Savona cerca un idraulico per ditta termoidraulica di Varazze, requisiti richiesti, esperienza richiesta più di 5 anni, età minima 18 anni, patente tipo B, preferenza agli iscritti nelle liste di mobilità della regione, contratto proposto, tempo determinato, full time. Sono aperte le iscrizioni alla prima edizione del corso di marketing e promozione integrata delle tipicità del territorio, con particolare attenzione a miele, birra e distillati, rivolto a 9 persone occupate alle dipendenze o lavoratori autonomi. Al termine del corso verrà rilasciato a testato di frequenza, scadenza iscrizioni 26 febbraio 2015. Sono aperte le iscrizioni anche per il corso all'allevamento nelle aree collinari, tecniche per la produzione di latte e carne di qualità, rivolto a 12 persone disoccupate. Al termine del corso verrà rilasciato a testato di specializzazione, scadenza iscrizioni 28 febbraio 2015. Per tutte le altre informazioni consulta il sito Formalavoro. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.